Degustazioni di vini bianchi, shopping, divertimento, musica, artisti di strada, tutto questo nella manifestazione White One Shopping che si svolgerà il prossimo 19 luglio lungo corso Umberto a Montesilvano. Oggi è la presentazione della iniziativa nata dalla collaborazione tra Comune, Confesercenti e l'associazione Montesilvano nel cuore Gianni Tauci. Sì, è il secondo appuntamento, una manifestazione fatta in collaborazione e con il contributo del Comune di Montesilvano. Confesercenti ha voluto caratterizzare questa giornata per rivitalizzare un po' il senso dello shopping, dei saldi, unendo l'opportunità della conoscenza del territorio con il vino, bianco in questo caso, che verrà offerto gratuitamente ai presenti. E con l'opportunità poi di vivere questa strada, questa serata, con musica dal vivo, DJ set, artisti di strada e insomma tanto colore estivo per poter gustarsi anche le circa 100 attività commerciali che sono presenti in questo tratto di strada. Da l'incrocio con i grandi alberghi, quindi sempre sulla strada di 16 su Corso Umberto, fino all'intersezione con la via vicino al distributore. Tanto per capire, sarà tutta zona pedonale e sarà una festa serale di quattro ore che darà la possibilità a tutti di fare shopping e di gustarsi un po' buona musica e del buon vino. Tra l'altro si va verso la riqualificazione di Corso Umberto, l'assessore al commercio del comune di Montesilvano, Francesco Di Pasquale. Siamo molto contenti e orgogliosi del rapporto che si sta creando anche con l'associazione di categoria. Fin dai primi giorni del mio insediamento abbiamo cercato una collaborazione importante. Oggi il centro cittadino vive un periodo di crescita, di nuove aperture e soprattutto siamo contenti e orgogliosi che dopo tanti anni con l'associazione di categoria c'è un bel rapporto.